Potrebbero verificarsi in doppia la regolare distribuzione idrica a Caltanissette nelle zone marine di Butera nella giornata di martedì 27 settembre. Questo perché Siciliaque ha comunicato che dalle 7 di martedì interromperà l'attività degli acquedotti Ancipe e Blufi per consentire l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione non più rinviabili necessari per eliminare alcune grosse perdite che si sono manifestate di recente. Tali interventi avranno una durata di 12 ore sull'acquedotto Ancipe e di 24 ore sull'acquedotto Blufi e vedranno impegnate più squadre di manutenzione per ottimizzare i tempi di intervento e consentire l'esecuzione dei lavori previsti in un'unica soluzione. Di conseguenza Caltacqua, gestore del servizio idrico per la provincia di Caltanissette, non potrà garantire la regolare distribuzione nel capoluogo, ad eccezione delle utenze di ospedale e carcere che continueranno a essere garantite e nelle zone marine di Butera. A Mazzarino la distribuzione subirà un ritardo rispetto alla usuale turnazione di 36 ore. Nei comuni di Riesi e Niscemi, grazie all'utilizzo delle risorse da fonti proprie, non si registrerà alcun disservizio. Caltacqua renderà tempestivamente noti tutti gli aggiornamenti man mano disponibili.